Miglior Biancazzurro per la critica, si è arrivato da poco, però già una bella soddisfazione. Sì, sì, è un bello premio, ringrazio tutti che hanno votato per me, sono contento e lo so che è importante per la città e per la società, quindi sono contento. Play-off, stanno per arrivare, cosa ti aspetti? Sentivo, tu dicevi, bisogna crederci al 100%. Sì, bisogna crederci, andare al 100% sì, poi un play-off, una lotteria, c'è tante squadre, non abbiamo fatto poco nel campionato, dobbiamo andare ancora più forte, dobbiamo fare di più come quello che chiede il mister, quindi dobbiamo stare concentrati su di noi e poi vediamo. Qualche settimana fa sul giornale abbiamo scritto, Raffià, la fabbrica degli assist, ti piace? La fabbrica mi piace più che il re, perché gli assisti lo faccio, poi loro fanno gol, fanno altri assist, i miei compagni, quindi sono contento, contento che almeno vinciamo, poi sono contento io. Hai mai sentito Zeman dopo la partita di Capistrello e abbiamo detto che hai fatto dei numeri importanti, hai detto sì, è facile farli contro il Capistrello, li deve fare in altre partite e anche oggi non mi è piaciuto Raffià. Il mister è così con me, sembra buono così, quando mi aiuta mi dice sempre di fare di più, perché lui lo sa che posso fare ancora molto molto di più, quindi sono contento di queste cose qua. Una bella strada, sono contento, il mister io non lo conoscevo personalmente, credo che lui neanche, quindi abbiamo fatto secondo me un bel fine di stagione, però come ho detto prima abbiamo fatto poco ancora, siamo solo arrivati terzi della terza categoria, con tre gironi, quindi c'è tante squadre, dobbiamo fare ancora di più, fare meglio. Vivarini, l'allenatore del Catanzaro, ha detto Raffià mi ricorda Zidane. L'ho già detto, ringrazio il mister e basta, sono contento. Raffià e Benzema? Il calcio. Ti ci senti con lui? Sì, sì, il calcio, lui ripresenta il calcio vero.